Da oggi per entrare al liceo gli studenti del Parini di Milano dovranno utilizzare il badge elettronico, un modo per controllare ingressi e presenze ma anche per sfoltire la burocrazia. Ne sembra una buona idea? Sì, sinceramente sì. Un'altra cosa che dovrebbero fare al liceo è che durante le ore di lezione dovrebbero sospendere l'uso dei cellulari. Sì, mi sembra un'ottima idea, così almeno è tutto più sotto controllo anche per i genitori, nel caso in cui non si presentassero a scuola. Penso che sia una buona idea, sì. Ma secondo me no. Come mai? Ma perché gli studenti devono poter bigiare in qualche modo. Quindi è giusto tutelarli? Sì. Infatti uno dei fenomeni che avvengono all'interno delle scuole e del mondo scolastico è proprio quello del bigiare, marinare la scuola. Lo reputa così grave oppure ci siamo passati tutti? Vabbè, ci siamo passati tutti. Dipende dalla quantità, no? Se lo fai uno o due volte all'anno va bene, se inizi a farlo per due mesi su sei no. E quindi insomma i genitori riescono a tenere sotto controllo maggiormente la situazione, anche i professori credo. Ma il modo per pigiare la scuola la troverono comunque. Cioè non è quello, secondo me non è quello il problema. Il problema è più che altro per le cose burocratiche, ecco, per l'uso della carta, queste cose qua. Ma è capitato di bigiare la scuola in passato? Ma certo, lo abbiamo fatto tutti e lo faranno ancora. Ha dei figli? Sì, un bambino, sì. In futuro quando crescerà dovesse farlo si arrabbierebbe con lui oppure no? Mi arrabbio però se una cosa la vuole fare la fa, cioè non è che puoi ammazzarli, ecco. Ci sono cose più gravi? Sì, sicuramente. Dicevi che l'hai fatto anche tu? Sì, ovviamente, come tutti gli altri. I genitori ti hanno mai scoperto? No. Se ti avessero scoperto come avrebbero reagito secondo te? Sicuramente non bene, però ecco non si sarebbero arrabbiati. Non lo reputi un fenomeno così grave? No, no.